Con il segretario generale MIBACT, la dottoressa Antonia Recchia, qual è il sostegno costante, il sostegno sempre costante alla BMTA da parte del MIBACT? C'è un sostegno costante, importante, devo dire in crescita, perché il Ministero crede moltissimo in questa manifestazione. Questa è una manifestazione in cui si parla certamente di mercato, si parla di turismo, si parla di sviluppo dei territori legati al patrimonio culturale, ma si parla anche di cultura, di patrimonio culturale. Ci sono dibattiti ad altissimo livello, quest'anno c'è addirittura una sessione straordinaria del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, che è il massimo organo consultivo del Ministero. Ci sono convegni in cui si dibattono tutte le tematiche più rilevanti e più d'attualità del nostro Paese in tema di beni culturali, non solo archeologici. Quindi è importante che una manifestazione del genere prosegua, si arricchisca, diventi sempre di più un momento di confronto e di incontro delle istituzioni e ovviamente anche degli operatori commerciali che riescono in questo modo a capire quanto vada esposto, promosso e venduto, se questo termine può essere accettato, il viaggio in Italia, in particolare nell'Italia archeologica, nei mercati internazionali.